Oggi presentiamo alla cittadinanza e alle associazioni interessate la proposta di regolamento per l'affidamento e la concessione dei beni confiscati alla mafia. Questa proposta ha come obiettivo prioritario quello di disciplinare le procedure, i criteri e le modalità per l'assegnazione alle associazioni di volontariato, alle Olus, inserite proprio in questo regolamento dei beni confiscati alla mafia. In particolar modo viene istituita per la prima volta l'albo e l'anagrafe dei beni confiscati dove sarà tutto visualizzabile sul sito del Comune di Bari, scaricando anche una app si potrà avere una mappatura di tutti i beni confiscati. Nel link predisposto sul sito del Comune di Bari verranno indicate le sentenze che hanno portato alla confisca dei beni, dove sono localizzati, come è possibile accedere alla domanda per la partecipazione all'assegnazione e all'affidamento del bene è la finalità anche del bene confiscato alla mafia. Crediamo che rendere pubblico e trasparente il sistema non soltanto di assegnazione ma anche di gestione da parte delle associazioni dei beni confiscati alla mafia sia una delle forme più importanti di trasparenza e di legalità che possiamo fornire alla cittadinanza. E in particolar modo anche a tutte quelle associazioni che spesso non conoscono quali sono i beni confiscati e se possono fare richiesta di assegnazione di questi beni.